Questo è l'ultimo brano, giusto ragazzi? Questo è il nostro ultimo brano, dobbiamo salutarci. Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un pizzico di cospe. Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass. Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, Siamo ancora nel territorio del Bluegrass, ma all'interno ci sarà un po' di più, 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 Un po' di più. E' stata una fantastica strada, ringraziamo tutta l'organizzazione ringraziamo Telegalia ringraziamo il San Bernardi Amorini ringraziamo i servizi tecnici ringraziamo il nostro staff Nicola, Stefano e Dario che vende i nostri cd e i nostri gadget e ringraziamo soprattutto voi un applauso a voi perché finché ci siete voi esiste questo mestiere che è un mestiere strumento il mestiere dello spettacolo il mestiere del divertimento e dello stare insieme e adesso vorrei presentare ad uno ad uno questi fantastici musicisti al bencio Michelangelo e ci venga al contrabasso Rolando Magamiglia che da poco è diventato anche papà alla batteria Enrico Caganzaniti all'armonica Alfredo De Cresis grazie A la chitarra Pierpaolo Ravizzano Chitarra e voce Joe Bastianich Noi siamo Joe Bastianich e la terza classe C'è un'altra parte c'è un'altra parte che dice come c'è il mio frate C'è un'altra parte 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 Non saliamo del palco, sapete che vogliamo ponere un piso, lo facciamo adesso, vai, bravo! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.